Il Lepicerno ritrova la vittoria interna e blinda la salvezza, battendo in rimonta un campo basso che nella prima frazione aveva trovato due gol sulle uniche disattenzioni della difesa lucana. Con questa vittoria la squadra di Colucci non solo ipoteca la permanenza in categoria, ma balza all'ottavo posto, pronta così a giocarsi le proprie chance di playoff in questo finale appassionante di campionato. Il campo basso passa in vantaggio dopo 20 minuti dopo che era stato il Picerno a farsi apprezzare per un predominio territoriale e possesso palla. A sbloccata è un gol di pace che dal limite dell'area dopo un primo tentativo svilicolato trova una conclusione che Viscovo non riesce ad intercettare. Alla 34esimo reazione Picerno con un tocco di De Cristoforo per Parigi, sinistro respinto in tuffo da Raccichini. Sul ribaltamento di fronte Rossetti calcio dai 20 metri, la respinta di Viscovo viene inzaccata da Emma Uso che raddoppia. Punteggio Beffardo per il Picerno che sfiora subito il gol con una girata in aria di Parigi. Nell'intervallo Gerardi sostituisce Reginaldo, il Picerno sfiora il pareggio con un destro di Dettori che Raccichini alza in corner. Dubbio, contatto, sospeso in piena area di rigore nel frattempo. Costante la pressione dei ragazzi di Colucci che spingono per cercare il pari e la rete del 2-2 arriva al 24esimo con una magia di Esposito che entra in aria e di destro mette di prepotenza sotto la traversa meritato del forcing offensivo profuso. La rimonta viene completata da Pitarresi che prima della mezz'ora dalla distanza mette fuori causa Raccichini. Mister Colucci pertanto una ribalta con i cambi di Esposito e Pitarresi che danno nuova energia all'attacco Melandrino. Successo più bello non poteva esserci, soprattutto per come è maturato. Il Palermo torna al successo dopo tre pareggi consecutivi estendendo il Taranto con un netto 5-2 nel recupero della 22esima giornata. Decidono le doppiette di Luperini e Plunori e la rete di Soleri. Inutili per gli ospiti i gol dell'ex di Gennaro e il sigillo di Riccardi. La formazione dei Baldini, assente per Covid, la sblocca al terzo al primo tentativo con Luperini abile a girare in rete di testa un perfetto corner di Dall'Oglio. Al trentasesimo è Brunori ad andare in rete con una girata su un cross basso di Valente. Cinque minuti più tardi ancora il numero 9 con un gol di destro secca il portiere. Nella ripresa il Taranto accorcia le distanze con il Gennaro che trafigge Pelagotti con un preciso mancino. Il poker arriva prima con Luperini, poi nel finale Soleri segna il 5-1, vince il Palermo. Taranto capò, rosa nero, quinti in classifica a meno due dal terzo posto occupato dall'Avellino.